Dall'autore best-seller numero uno, Michael Connelly, il suo thriller più intenso e feroce. Dalle strade di Los Angeles, ai bassifondi di Hong Kong, il detective Harry Bosch metterà in gioco tutto per riprendersi ciò che ha perso. Il respiro del drago, di Michael Connelly, da maggio in vendita. Edizioni PM